Buongiorno e bentornati. Oggi vi presentiamo il libro Microfotografia e Fotomicrografia. È un libro dedicato alla microscopia. Autore Carlo Bramanti, editore Libri Sandit. 122 pagine, ricco di immagini. Un libro veramente interessante, dedicato alla microscopia, alla storia della microscopia e all'ottica. L'aspetto che mi interessa sottolineare è proprio la presenza di tante immagini, di tanti schemi, di tante formule, di tanti diagrammi che spiegano bene la microscopia. Vengono raccontati i vari componenti del microscopio e non solo. Si parla anche di luce, di sistemi di illuminazione, di macrofotografia e di fotomicrografia. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie ancora. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo video. Grazie a tutti.